giro veloce di tecla il pilota eccolo lì girato si parte è andato troppo veloce è andato troppo veloce aspetta fermati il gatto alieno che non ha paura della trascola d'altra parte è abituata al missile in quanto gatto alieno c'è con questo per il fatto che stai davanti cerca di stare davanti e anticipare si mettiti sotto la tavola no aspetta mi metterò qui filmerò il passaggio dai grazie 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 ciao ciao ragazzi c'è una difficoltà l'autista adiciamo c'è una difficoltà calmati chiusa adesso su due ruote l'ultimo giro dopo basta bene possiamo chiudere fermati proprio davanti a me testa di tecla fermati qui io ho impennata arrivederci